... Un momento, non mi ha segnato un po' fa' Premato l'affattamento, la cattola e il cundicolo! Sì, giobbito, alzala! Vemmo là! Vemmo là! Come stai? A porfetto, a porfetto! Ma ci fa tutto la roba! Sì! Se lo facciamo ad ora e ci stai dietro, curato! Ehi, muore l'orecchio! Fermi! Fermi! Mamma mia, Don Gespuglio era andata a farnolina Perdonate se far fuggio c'è un cadavere subito Un cadavere? Che messaggio queste forze al cadavere spiato Perdonate, signor morto, la mia cacchione chiamata Ma chi siete? Diva a me! Chi è? Buon cadavere! Cretino! Vesce da darino su! Io non metto i miei sembroni e tu mi pia, non sta a me! Si capisce, apposicosi, sparacicci, sparandona Siamo tutti sospettosi che ci ho morto ogni fontone Eh, brigadier! Chi è? Brigadier! Chi vuoi? Qui all'angolo ho preso questa bella signorina Ma che ci ho usato con faccini, vostre piccola piscina Ah! Brigadier! Che simpatico che siete, vostre mani! Ma... ...le consigli, mi credete? Io trovate nelle spazio, ve lo giuro brigadier! Andiamo alla sezione a far l'interrogatorio Parla su questa maglione, vostre mani! Sono venuta presso a me! Non guarda! Ma che simpatico che sei prigione? Che nonissima esperienza! Eccitante l'emozione! Mi diverte l'occorrenza! Tu andiamo, brigadier! Ah, mannaggia la divisa! Come porta la tentazione a ciapparla e buttare in vista! A buttarla di schiapponi! Sono venuta presso a me! Uno, due! Uno, due e tre! Sono venuta! Sono venuta! Sommaggia! Niente, niente, niente! Non ti sta niente a fare! Non ti preoccupare! Sono lacrime e si morono! Brava! Venga così! Venga così! Io lunedì! Ma vado! Ma perché lunedì? Ma perché? Ma perché altro è santo? Domani è domenica! Ha già passato l'ultima domenica che è figlio mio! E' un po' quattro si trova! Ma cosa è andato? Ma cosa è andato? Ma cosa è andato? Ha gestiato tutte le sabonare Napoli! Ha gestiato! Chi ha avuto della fortuna? Si è fatta la plastica facciale! E se sta mangiando i milioni mie, se sta mangiando! E camicia mia, dove stanno? Non sta sbalza, è nata di nuovo! Ma già! Non ci ho messo, non ci ho messo, non ci ho messo! Niente, niente, niente! Non ti voglio fare più! Ma che puoi andare qua a sbalzare? Mi chiamare sbalza così! Ma non c'è! Signora, se il partima è così, me lo vado, me lo vado, me lo vado, me lo vado, me lo vado! Ma nooo! Vai e tu, sangue! Ma non c'è lì! Ha disperito la ricetta! E qua stanno tutti in medicina! In medicina! In medicina! Grazie! Ma perché sta malato qualche ruolo? No, nessuno! Ho sciruppo per la tossa compulsiva e non me l'ha rata! E se arrivi in mano! Ma ho letto che la tossa compulsiva! No! Vieni! Fammi sentire in medicina per l'orecchione! Ma che ti hai con gli orecchioni? Ma non sono fatti due, ci vuol favore! Che sta a te a medicina per l'orecchio! Ma non sono fatti due, però! In questo caso è pieno di attrosirene! Attrosirene? Ma non è con il papà! Ma tu perché non ci fai fatti due? Ma che te lo porto a te? No, no, padre, Margherita! Siamo un trucco per non me far partire! Ma guarda un trucco! La scantola non viene là qui! Beh! E io faccio la scantola! E io faccio la scantola! Goppo i libretti di papà! Ma perché? E se vedi la scantola a metà a prendere! Ma non lo so! Ma come passiamo dall'acquaiola a farmacista? No, no! Che perché? Io lo so, yeah! E mi piace! Io ho fatto che l'acqua io ho fatto del Ol價to da te! Io mi piace davvero! Io ho fatto che lo l'ho costaingata! Io faccio di un fuoco… Io mi piace davvero che rimuendo un grosso! Eh sì! Io. Io c'ho il tutto… Io per rendere ancora partito in chale… Io c'ho finito dalla meoria? Io. Io so se fallo. O PHONE!